Devo dire che ho avuto la possibilità di girare il mondo e ho visto delle cose veramente brutte, drammatiche, girando il mondo, ho visto bambini, bambini che lavorano, io volevo sottolineare questa cosa stasera, sono davvero contro il lavoro minorile, cioè vedere questi bambini che fanno i palloni, io li ho visti per 17-18 ore, anzi ragazzi parlando di questo argomento mi viene un po' di, sono sincero, portami dell'acqua per fuori, portami dell'acqua, veloce anche, veloce portami dell'acqua. Grazie